Ragazzi, oggi correggiamo invece l'esercizio che vi avevo assegnato per casa, il cui testo era Dato un numero, visualizzare al video se il numero è positivo o negativo. Allora, come risolvo questo programma? Intanto il programma, che cosa ha come prima istruzione, che è un'istruzione non eseguibile, ha il commento. Il commento, che cosa metto nel commento? Metto il testo del mio esercizio. Successivamente, che cosa faccio? Dichiaro la variabile num di tipo intero. E poi, con l'istruzione output o leggi, visualizzo sullo schermo la scritta Inserisci un numero. Quando eseguirò questa istruzione, sullo schermo verrà visualizzata proprio questa scritta di inserimento del numero. L'istruzione successiva, istruzione input o leggi, permette di acquisire il numero che l'utente, che si trova davanti allo schermo, digita sulla tastiera. Il numero che l'utente digita sulla tastiera viene acquisito e messo nella variabile num. La variabile num sarà quindi quella della quale dovrò valutare il contenuto. Devo valutare il contenuto della variabile num. Andrò a controllare se il contenuto della variabile num è maggiore di zero. Se il contenuto della variabile num è maggiore di zero e quindi è vera, questo controllo è vero, visualizzo sullo schermo la scritta che il numero è un numero positivo. Altrimenti, che cosa faccio? Controllo se il contenuto della variabile num è uguale a zero. Se è vero, cioè se il contenuto della variabile num è uguale a zero, visualizzo sullo schermo la scritta che num è positivo. Altrimenti, se il contenuto della variabile num non è uguale a zero, vuol dire che il mio numero è negativo e quindi visualizzerò sulla schermo la scritta che il numero è negativo. Vediamo come si esegue il funzionamento di questo programma e poi il programma termina. Come vi ho detto più volte, è possibile vedere il codice del programma. È possibile vedere il codice, anche il codice come in questo caso in pseudocodifica, che è un'altra modalità del nostro linguaggio di programmazione. Ma torniamo a noi, torniamo al nostro programma e che cosa voglio farvi vedere? Vi voglio far vedere come si fa a eseguire il mio programma. Per eseguire il mio programma, schiaccio run e mi chiede il numero. Inserisco il numero 4, che so essere un numero positivo. Enter e quindi la scritta che mi viene visualizzata è il numero 4 è positivo. Questo programma avrei anche potuto farlo in questo modo. Posso anche decidere che questa istruzione la elimino, ok? Che qua specifico se il numero è maggiore o uguale a 0. Se il numero è maggiore o uguale a 0, visualizzo che il numero è positivo. Altrimenti che num Ecco qua. Che numero è negativo. Eseguiamo. 6 6 è positivo. 11 No, meno 11 Numero meno 11 Negativo Perfetto. Quindi abbiamo visto di questo esercizio due possibili soluzioni. Una prima soluzione, quella che, tipo quella che avevate mandato voi, molto simile a quella che mi hanno mandato la maggior parte di voi. E questa soluzione, molto più compatta, dove ho una solo se. E con un solo controllo, nel quale controllo se il numero è maggiore o uguale a 0. Va bene? Vi saluto alla prossima. Ciao ragazzi!